Siamo qui ad Aprilia per la sfida del campionato di Serie C femminile, calcio a 5, tra le padroni di casa e la coccinella contro il Torre 9 FC. Attacca da destra verso sinistra con la casacca Nero Verde, la squadra di casa, la coccinella. Caschiri, dentro, Tomaiuolo, ottima la palla, Sias, Sias, prova, ottima occasione per il Torre 9 FC al minuto 12, Tomaiuolo, ottimo l'intervento a parte di D'Alessio, contro pede per tiro, ottima l'azione al minuto 20 l'azione personale da parte di D'Alessio, riconquista palla e va vicino al gol del vantaggio, dentro per D'Alessio che prova a girarsi, su Cinti, ancora D'Alessio, D'Alessio, prova il tiro, ottima giocata Campanelli, ricomincia da Giondi, ancora per D'Alessio D'Alessio, prova ad andare, ottima occasione al minuto 29 Sias, entra in mezzo al campo Sias, la larga, prova il tiro Rete, vantaggio del Torre 9 FC Cinti, ricomincia, Sias, prova il tiro, Rete Rete, bellissimo gol da parte di Sias che porta il punteggio sullo 0-2 al terzo minuto del secondo tempo D'Alessio, la gira, Campanelli, prova il tiro ottimo l'intervento a parte di Cuzzini che fa sì che la Coccinella non riesca a rientrare in partita Palla dentro, Giondi, prova il tiro, ottimo l'intervento ancora da parte di Cuzzini Aiello, prova il tiro, Rete, Rete, bellissimo il gol da parte di Aiello da fuori aria al nono minuto Miccio per Giondi, gira ancora intelligentemente per Aiello che prova andare, occasionissima per D'Alessio Cinti, va, Sias, tiro, ottimo l'intervento da parte della difesa Campanelli, Alessio, prova il tiro vicino al gol, occasionissima adesso anche per la Coccinella ancora Giondi molto bene Miccio Campanelli, prova il tiro Aiello, palla dentro per D'Alessio ancora, D'Alessio, prova il tiro ottimo l'intervento da parte di Cuzzini ancora, D'Alessio, prova il tiro un'altra occasione per la Coccinella Campanelli ancora, ottimo il giropalla Aiello prova il tiro, occasione da gol Tomaiuolo, ancora prova il tiro, ottimo l'intervento da parte di Aiello ottima la palla dentro, ottimo lo stop la partita adesso, però ottimo, assolta l'intervento da parte di della numero 9 palla dentro, bella per Sias che prova il tiro, rete rete, gol di Sias doppietta personale e punteggio di 3 a 1 per il Torre Nova Giondi, Aiello Campanelli, prova andare occasionissima al minuto 22 Giondi, prova il tiro ottimo l'intervento da parte di Aiello che salva un possibile 4 a 1 para dentro, rete rete, disattenzione difensiva da parte della Coccinella il punteggio si porta sul 4 a 1 per il Torre Nova Giondi ottimo l'intervento da parte di Sias che prova il tiro rete, un altro gol da parte di Sias tripletta personale Cuzzini Campanelli, tiro salvataggio sulla linea di Sias Giondi D'Alessio prova il tiro un altro salvataggio Aiello ancora Aiello palla dentro Campanelli prova ottimo l'intervento da parte ancora di Cuzzini e finisce qua Torre Nova batte la Coccinella per 5 reti a 1 attacca il microfono Grazie a tutti.